Sono 114 del 7 novembre 2023, qua mi trovo a Santa Maria, via Santa Maria, sì, questa è via Santa Maria, quindi più avanti arrivo alla chiesa Santa Maria, al cimitero. Simplicamente ho fatto un bel giro a 360 gradi, sono partito sotto la storia 43, sono arrivato qui al bivio di Santa Maria, ho proseguito qua sopra il Monte Penna, adesso vi faccio vedere una parte del Monte Penna, eccolo qua, ecco il Monte Penna dove ci sono quelle nuole, quindi ho proseguito l'escursione verso l'Ovest e poi da l'Ovest sono sceso verso sud, qui via del Monte, e adesso mi sarò qui. Adesso, nel momento che mi ci trovo, la faccio vedere i miei difunti genitori. Questa è la Repuicenza, camminare va sempre bene. Questa è la Repuicenza, camminare va sempre bene.